La Juventus si gioca martedì gran parte della stagione contro l'Ajax e decide di fare non un turnover, molto di più contro la Spal, fa giocare due Millennials, i ragazzi dati dopo il 2000, due Primavera, fa giocare Ken che è in grande spolvero esploso in questo finale di stagione, chiamiamolo ormai così come lo chiama tutta Italia, anche se il papà ha chiarito che si chiama Kean, e perde sul campo della Spal, falsando un campionato, perché la lotta a salvezza è falsata da risultati degli ultimi tempi, tra cui Empoli e Napoli, diciamolo chiaramente, dove squadre che normalmente non avrebbero raccolto neanche un punto stanno facendo punti contro le prime in classifica davvero inopinati. Certamente non saranno contente le contendenti, ma la Juventus guarda se stessa, pensa di festeggiare lo scletto in casa, sa che l'Ajax è avversario pericolosissimo, nonostante il bel pareggio in terra olandese, visti i precedenti di Madrid. Il Napoli va a Verona col Chievo, ci farà come la Juventus, finalmente vedremo Gaetano, anche noi abbiamo un millennial di valore, finalmente se non col Chievo con chi giocheranno Verdi, Unas, Younes, Luperto, ma chi? Ancelotti, capito il momento, schiera i titolarissimi dando fiato a uno solo, Allan, che ne aveva assolutamente bisogno, l'altro che sembrava in affanno fisico dei leader agonistici di questa Napoli che è Coulibaly ancora in campo e addirittura esplode con una doppietta i suoi due primi gol di stagione. Cosa ha fatto Ancelotti, al di là della solita rotazione dei portieri finora ottimale? Gli ha schierati tutti provando due cose fondamentali. Insigne finalmente nel suo ruolo sinistro di raccordo a sinistra tra gli attaccanti e il centrocampo, nel suo ruolo di dieci e mezzo, chiamiamolo così, spostato sulla fascia dove lui è più regista. E' da lì che il Napoli ha costituito le sue fortune negli ultimi anni e poi ha provato Chirikesh. Non è stato solo un turnover, è stata una prova, perché nella mente di Ancelotti probabilmente, io non ho la verità in tasca, né dormo sotto il letto di Ancelotti, mi fanno molti miei colleghi che sanno tutto di quello che pensa in anticipo, interpretro, probabilmente, sta ripensando la formula Champions, cioè Maximovic più i due centrali, non essendoci al Bion, che solo lunedì riprenderà gli allenamenti e chissà se andrà in panchina contro l'Arsenal, potrebbe provare Chirikesh, regista difensivo, quel regista che manca molto senza il Bion, perché né Maximovic né il grande Koulibaly lo sono, in mezzo a Maximovic e Chirikesh e Koulibaly. Altra prova di questa sera, e non so se sia stato solo un turnover, è quella di Goulam, perché diciamolo chiaramente, il Napoli esce parecchio bocciato dall'Emirats, che nel primo tempo è stato letteralmente asfaltato, ha dato una sensazione di inadeguatezza, è questo che fa più male in assoluto, ma quello che fa più male in assoluto è l'inadeguatezza ormai certificata dei nostri terzini a certi livelli. Bisogna sempre dare il tempo ai giocatori di esprimersi, non bisogna mai dare giudizi drastici e definitivi, perché chi mastica calcio sa che un calciatore ha bisogno dei suoi tempi, che non sono uguali per tutti, per esprimersi. Ma dopo vari anni, e dopo un'involuzione certa di Usai, e dopo la certificazione che Mario Lui quest'anno è entrato in tutti gli episodi negativi della stagione, tutti, ricordiamo Parigi, ricordiamo Liverpool, ricordiamo ora di nuovo Londra, ma in generale questi calciatori, che sono buoni calciatori, ottimi professionisti, nulla da dire sulla loro qualità, ma se dobbiamo alzare l'asticella, non sono. Da Napoli, a certi livelli, però dipende il livello che vuoi. Se vuoi essere competitivo, perché io torno sul concetto base, fondamentale, nessuno può chiedere al Napoli la qualificazione per obbligo, nessuno può chiedere al Napoli di vincere lo scudetto per obbligo, perché il Napoli non ha nel DNA la vittoria che ha un club come la Juventus, come ce lo può vedere il Milan, l'Inter, il Real Madrid, il Barcellona, e il Manchester United, il Bayern Monaco, eccetera. Ma cosa si chiede per sognare, per riempire lo stadio, per ritrovare entusiasmo? Competere. Essere competitivi. Se sei competitivo, prima o poi vinci anche, e quindi alzi un trofeo, vinci un campionato. Il Napoli di quest'anno è stato poco competitivo. Lo è stato in Champions, di sicuro. Non lo è stato in Coppa Italia. Non lo è stato, di certo, in campionato, pur facendo un buonissimo campionato che lo vede secondo per distacco. E quindi non possiamo assolutamente parlare male del campionato del Napoli. Quindi parlare di catastrofe o di fallimento è esagerazione assoluta. Ma di sicuro questo Napoli è un po' arretrato rispetto alla competitività acquisita. Se vogliamo alzare la stricella, certi nomi che prima potevano andare bene per il Napoli, oggi non vanno più bene. Quei prospetti, tipo il ragazzo del Chievo, tipo altri che sentiamo in giro, che è giunto l'individua perché li vede prospetti validi, vanno forse presi, ma non più come prima. Cioè vanno presi e mandati a giocare altrove. Una grande squadra fa così. Individua dei giocatori buoni, li manda a maturare altrove. Dove deve andare a maturare un ass, per esempio, perché non è un calciatore da Napoli, attualmente. Se vogliamo alzare la stricella. Giovedì in Napoli non si gioca la stagione. La stagione sarebbe giocata stasera col Chievo. Perché voi immaginate un Napoli in crisi che non batte il Chievo. Cosa sarebbe accaduto? Cosa sarebbe accaduto? Un Napoli che rischia il secondo posto. Cosa sarebbe accaduto? Il Napoli, il valore vero, lo raggiunge mantenendo saldamente la seconda posizione. Poi giovedì ci proverà, in tutti i modi e possibilmente. Magari aggiungendo in signa Mertens e Milik. Magari con Maximovic che fa il terzo centrale difensivo, giocando a largo a destra nella difesa a tre e mezzo, già sperimentata in Champions. Magari la diavoleria la troverà Ancelotti. Magari il Napoli farà la partita della vita. Perché succede che la Roma batte il Barcellona 3 a 0 e fa la partita della storia. Può succedere che il Napoli lo faccia con l'Arsa. A me interessa relativamente poco, oltre che emozionarmi e voler vivere qualcosa di bello. A me interessa vedere un Napoli che c'è, che ci prova e che faccia bene. Se poi non ci riuscirà, non era un obbligo, visto che i favoriti non eravamo noi. Quello che non voglio vedere è il Napoli imbarazzante, asfaltato, del primo tempo dell'Emirats. Quello visto con l'Empoli e l'Ectoplasma visto con il Genoa. Quello è il Napoli, che prende gol da sei partite consecutive in campionato, perfino col Chievo, che non voglio più vedere. Perché altrimenti non capisco quell'uomo che è venuto dicendo non sono venuto a pettinare le bambole e che avrebbe dovuto portare a me interità vincente, che è Carlo Ancelotti, di cui ho una stima infinita, che è venuto a fare. Allora, questo è il momento che Carlo Ancelotti realizzi quello che ha detto al primo giorno. Parto da una base importante, ho una squadra forte, dovrò essere io bravo ad aggiungere qualcosa. Ecco, che giovedì ci riesca. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.